LA Roadby è ora in archiva e Stefano Pioli, Milan coach, può commentare un'aspra eliminazione la doppia sconfitta con i giornalisti presenti nella sala conferenze di Meazza, dopo il tradizionale round di interviste l'emittente qual è il budget oltre l'amarezza? Ora c'è solo delusione, siamo arrivati nella semifinale di Champions League, puoi essere orgoglioso del percorso. Ma abbiamo sognato di andare in finale e battere i nostri rivali, non averlo fatto procurarsi delusione che ci arrendiamo rapidamente perché la vera delusione non suonesse la prossima Champions League. Questi sono i primi 10 minuti della prima gamba e non hanno segnato oggi nelle due occasioni con Diaz e Leao che potrebbero darci energia per riaprire il gioco. Ma a determinati livelli o partite gare di alto livello o non superare il turno punto non siamo stati in grado a aumentare il nostro livello. C'è qualcosa che non ha funzionato nell'ultimo derby? Inter ci ha ferito con transizioni e palline inattive, ci sono situazioni che dovevano essere affrontate in modo diverso. L-Inter era migliore in quelle situazioni. In questi due derby tra i migliori dell'Inter ci sono stati giocatori di esperti. Fare in Champions League è importante, anche pensando al mercato? Abbiamo avuto Zlatan, ma ha avuto problemi. Condiamo la politica del club con convinzione. Quest'anno abbiamo cercato di essere competitivi in campionato e in Champions League, nel primo non ci siamo riusciti e alla fine della stagione farà le nostre valutazioni. Una stagione che penso abbia insegnato a acquistare Milano in vista del prossimo. Ti sei aspettato un tale Inter chirurgico? L-Inter è forte, ha superato un gruppo con il Bayern e il Barcellona. Il rimpianto non ha avuto il miglior vantaggio della stagione, oggi c'era, ma non andava molto bene. Non siamo stati in grado di rimanere in cima e non abbiamo superato un Tarn abbiamo voluto superare.